Roberta Bruzzone, criminologa di fama internazionale, torna a Caltanissetta un corso per personale sanitario, gli interventi sulla scena del crimine. Sì, questo per noi è veramente un grande onore, perché questo corso è l'esito di un percorso iniziato diversi anni fa, che da tre anni ci vede anche affiancati all'assessorato siciliano per la sanità, e questo è un corso interamente finanziato dalla regione Sicilia e dedicato proprio agli operatori del soccorso sanitario, sia in fase preospedaliera che in fase ospedaliera e con particolare riferimento chiaramente al sistema 118, per una formazione mirata all'accesso alla scena del crimine, con l'obiettivo chiaramente di preservare il più possibile le informazioni in essa contenute, in modo tale che poi la vicenda giudiziaria che maturerà potrà basarsi poi su dati affidabili e raccolti in maniera assolutamente concreta. Quindi questo è un modulo formativo mirato per gli operatori, chiaramente, del soccorso, però con l'obiettivo di fornire a loro informazioni di area criminalistica e di simulare attraverso una serie di attività pratiche l'accesso sulla scena in maniera tale che possano comprendere le criticità e soprattutto rispettare nel limite del possibile e nel rispetto della loro mission anche le informazioni in essa presenti. Quali sono le novità sul tema rispetto agli ultimi anni? Beh, guardi, l'elemento su cui noi ci siamo soffermati molto spesso e fa parte peraltro anche del nostro percorso formativo è che ci siamo resi conto che ormai, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, molti assassini hanno utilizzato deliberatamente il 118, la chiamata al 118 per depistare le indagini. E in alcuni casi purtroppo questa scelta ha portato dei frutti, nel senso che ha reso effettivamente più confusa la scena del crimine e di conseguenza ha creato poi delle problematiche, a volte sono state superate, in altri casi non è stato possibile superarle, quindi anche con delle conseguenze veramente irrimediabili. Ragion per cui le novità quali sono? Che ci siamo resi anche conto, analizzando le chiamate di tutta una serie di soggetti che poi si sono rivelati in vicenda e che poi si sono rivelati in casi di omicidio veri e propri, siamo resi conto che ci sono dei parametri specifici che devono allertare l'operatore già dall'inizio, quindi ancora prima di innescare l'invio della squadra di soccorso. Quindi novità ce ne sono moltissime, questo è un corso pratico, ma cerchiamo di dare informazioni proprio sulla scorta di casi reali, realmente accaduti e che quindi effettivamente possono trovare ampio anche ripetersi nella realtà che questi operatori andranno o hanno già in qualche modo affrontato o andranno a confrontarsi. In quanti parteciperanno? 25 edizioni per un migliaio di operatori. Che punto si è a livello nazionale sul tema? Guardi, la regione Sicilia è assolutamente pioniera, questo è il primo corso a livello nazionale, quindi previsto ufficialmente dal sistema sanitario nazionale, mirato su questi argomenti rivolto effettivamente agli operatori di questo tipo. Quindi direi, insomma, anche in questo decisione assolutamente meritoria da parte della regione Sicilia che in questo senso è arrivata prima.